2 aprile quinta domenica di quaresima vangelo secondo giovanni capitolo 11 nella versione breve in quel tempo le sorelle di lazzaro mandarono a dire a gesù gesù ecco colui che tu ami è malato all'udire questo gesù disse questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di dio affinché per mezzo di essa il figlio di dio venga glorificato gesù amava marta e sua sorella e lazzaro quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava poi disse i discepoli andiamo di nuovo in giudea quando gesù arrivò trovò lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro marta come udì che veniva gesù gli andò incontro maria invece stava seduta in casa marta disse a gesù signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a dio dio te la concederà gesù le disse tuo fratello risorgerà gli rispose marta so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno gesù le disse io sono la resurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive crede in me non morirà in eterno credi questo gli rispose sì o signore io credo che tu sei il cristo il figlio di dio colui che viene nel mondo gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò dove lo avete posto gli risposero signore vieni a vedere gesù scoppiò in pianto dissero allora i giudei guarda come lo amava ma alcuni di loro dissero lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse allora gesù ancora una volta commosso profondamente si recò al sepolcro era una grotta e contro di essa era posta una pietra disse gesù togliete la pietra gli rispose marta la sorella del morto signore manda già cattivo odore è lì da quattro giorni le disse gesù non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di dio tolselo dunque la pietra gesù allora alzò gli occhi e disse padre ti rendo grazie perché mi hai ascoltato io sapevo che mi sempre ascolto ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno perché credono che tu mi hai mandato detto questo gridò a gran voce lazaro vieni fuori il morto uscì i piedi le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario gesù disse loro liberatelo e lasciatelo andare molti dei giudei che erano venuti da maria alla vista di ciò che gli aveva compiuto credetero in lui cari amici il racconto della resurrezione di lazaro è veramente colpisce veramente il cuore il prefazio della messa sintetizza così messaggio del vangelo vero uomo come noi egli gesù pianse l'amico lazaro dio e signore della vita lo richiamò dal sepolcro oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e quei suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita gesù è veramente il signore della vita e il vangelo è kerigma cioè annuncio di salvezza una salvezza che accade qui ora il vangelo è potenza di dio per la salvezza di chiunque crede chi crede accede alla parola di una persona vivente che ha agito nel passato storico ma continua ad agire nello stesso identico modo e con la stessa potenza nel presente perché gesù è risorto e vive per sempre ci facciamo allora questa domanda potrebbe allora risuscitare qualcuno anche oggi sì potrebbe farlo potrebbe tirarlo fuori dal spolcro come ha fatto con l'amico lazaro il fratello di marta e di maria a betania sì lo potrebbe fare qualcuno pensa che se dovesse accadere oggi un fatto del genere così clamoroso mandando i mandato in onda magari da tutte le televisioni del mondo forse il mondo crederebbe a dire il vero non mancano anche casi di questo genere leggete per esempio la storia di gloria polo potete trovarla in internet era morta ed è tornata in vita un fulmine l'aveva praticamente uccisa leggete la storia di questa donna che va in giro per il mondo dare testimonianza il signore gli ha dato la seconda vita vedete mi vengono in mente le parole che dice abramo a ricco e pulone che vede lazaro nel seno di abramo non questo che il signore ha risuscitato ma quello della parabola del ricco e pulone e dice quando questo ricco ricco uomo finito all'inferno supplica abramo di mandare lazaro ad avvertire i suoi fratelli ne ha cinque perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento dice ma hanno la sacra scrittura hanno mosei profetti ascoltino loro ma no padre abramo ma se uno risuscitasse dai morti crederebbero dice no neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi è costata questa generazione è una generazione malvagia essa cerca un segno ma non le sarà dato nessun segno forché il segno di giona poiché come giona fu un segno per quelli di ninive così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione la fede che ci viene richiesta dunque è una fede pasquale fondata cioè sul segno più grande per noi decisivo quello della risurrezione di gesù cristo dai morti scrive san paolo nella prima lettere corinti come tutti muoiono in adamo così tutti riceveranno la vita in cristo ciascuno però nel suo ordine prima cristo che è la primizia poi alla sua venuta quelli che sono di cristo bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte concludo con san francesco il quale nel cantico delle creature insegna che non è la morte fisica che dobbiamo temere essa è un parto doloroso che conduce a una nuova vita dobbiamo temere piuttosto quella che il santo d'assisi chiamava la seconda morte cioè la morte eterna dell'anima ecco come si esprimeva nel linguaggio di allora laudato sì mi signore persona nostra morte corporale la morte chiamata sorella dalla quale null'uomo vivente può scappare guai a quelli che morrano nelle peccata mortali beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati che alla morte secunda noi farà male buona domenica